I'll take you on a ride if you can keep on secret Ciao a tutti ragazzi il mio nome è AgroModerni e siamo qua in questo nuovissimo episodio di Profarmi stagione 5 Season 5 Sì ho toccato purtroppo, stavo facendo una bella ripresa ma mi si è bloccata perché ho tirato il pugno sopra la tastiera Quindi mi si è impallato i movimenti fluidi, ma va bene lo stesso Allora ragazzi, sì questa è una coppiata molto strategica nel senso utilizzare 400, no che 400, eh Agro Sono 500 cavalli 565 cavalli con un attrezzo che ne richiede 100 e qualcosa Molto intelligente Agro No ma aspetta mi sta facendo fuori tantissimi soldi perché ha finito le patate, allora adesso arriva fino in fondo e cambiamo In questo episodio come vedete dal thumbnail andremo ad imballare l'erba E poi pensavo ragazzi se vi va bene che il prossimo... Cioè che il raccogliere le balle e portarle giù all'allevamento probabilmente lo farò off camera Se per voi va bene Questo perché penso che ne abbiate già le balle piene delle balle agromoderni che fa i giochi di parole Quindi pensavo di farlo off camera, se per voi va bene ovviamente Fatemelo sapere con un commento Non ho ancora letto tutti i messaggi dello scorso video perché adesso sto registrando, sono le 3 circa E il video è uscito alle 2.30 quindi Non ci sono ancora tantissimi commenti, ce n'è uno o due Quindi ancora niente Allora, in questo episodio come vi ho detto andremo ad imballare Così vi faccio ancora vedere cosa succede se tentiamo di teletrasportare il case E poi volevo anche rispondere a un paio di domandine Prima di passare all'argomento principale, alla domanda di oggi Allora, mi avete chiesto in tanti di iniziare le barbabietole Ma ragazzi ci vorrà un po' un attimo perché mi servono soldi Vabbè prima mentre ero off camera ho restituito il debito Quindi, un po' a posto Se mi sentite fare rumore strane è perché sono ancora in fase di geriamo il pranzo E quindi ogni tanto faccio anche i ruttini come i bei bambinelli Comunque, stavamo dicendo Prima di fare le barbabietole, ragazzi ci vorrà un attimo Perché la macchina per raccoglierle costa tanto E non ho molta voglia di utilizzare l'altra Perché l'altra è un po' una rottura Perché ci vuole tanto per raccogliere con l'altra macchina Quella da staccare al trattore Quindi nada Per adesso, poi magari farò più avanti Dopo aver fatto un po' di civil cottura Farò magari un video in cui sia raccolta di patate Che raccolta di barbabietole La farò tutta manualmente Ma per adesso no Quindi abbiamo bisogno di farci soldi Infatti penso che prima di iniziare la civil cottura Dopo la parte della fienagione Che stiamo per finire Il prossimo episodio la finiremo La parte della fienagione Faremo che fare un episodio unico di nuovo di trinciato Trincieremo penso solo questi due campi Il resto che ho seminato a mais Cioè quel campo lì Sarà adibito alla granella E basta Altro non c'è da dire Allora, poi altre cose che mi avete chiesto Prima di parlare della nostra solita cosa Ah vabbè, faccio vedere un attimo cosa succede Se tentiamo di teletrasportare il nostro case Allora è qua, noi vogliamo andare ad imballare laggiù No, non ha fatto il bug Incredibile Qui ci può il quadra che non cosa Mi faceva sempre un bug stranissimo Adesso non me lo fa più Boh, niente Mi dispiace Cioè mi ha trollato tantissimo Ma va bene lo stesso Per quanto riguarda le balle Penso che alla fine imballerò tutto Perché ho visto che comunque le facciamo andare E così almeno ci facciamo una bella scorta E poi prossimo episodio Taglierò un altro campo Per andare a raccogliere Al massimo faccio crescere di nuovo l'erba E passo sotto al sottobosco Non lo so No, forse mi conviene più questo campo qua È più facile Anche se c'è il dislivello Allora, accendiamo No, stupido io Ok Suonano citofoni così a caso E giriamo Allora Iniziamo ad imballare L'argomento di oggi Che mi avete proposto in tanti Cioè in più di uno È stato Se devi aprire un'azienda agricola Agro Che consigli mi dai E dove ti butteresti? In realtà ho già risposto un pochino A questa domanda nel FAQ Se non avete ancora visto il FAQ Andatevelo a vedere Perché è un'occasione per scoprire tante cose su di me E a breve penso che A breve In quest'estate arriveranno anche altre rubri C'è una serie come quelle che fa Just Nigel Le 5 cose Le 10 cose Le 10 cose Le 10 cose qua Però più legata a me Molto più personale Quindi che ne so Le 10 cose che amo Le 10 cose che odio Le 10 cose qua Star che ve le andate a leggere su Ve le andate a leggere Azzi e Mazzi Sul novella 2000 Ma qua sono direttamente io A darvi le informazioni Comunque Ritornando a noi La risposta alla mia domanda è Dipende da dove sedi E dipende da che capitale hai Diciamo che Per quella che è la mia zona Quindi il Cuneese Di sicuro O ti butti Sulla qualità Quindi se ti vuoi buttare Sulle grandi estensioni In realtà Lo puoi fare Perché comunque I campi Nella zona più Verso il Fossanese Comunque sono grandi Addirittura C'è gente che C'è un'azienda Che ha il case Quad Track Forse Vociferavano Che lo volevano vendere Però comunque L'hanno comprato E l'hanno utilizzato Quindi comunque L'estensione c'è Poi legandomi Sempre a questa cosa qua Parco Mazzi Ragazzi Sempre Il mio consiglio E tenetelo A quello che vi serve Io vedo C'è tanta gente In giro Che prende Mezzi Poi sono affari propri Però prende mezzi Sproporzionati A quello che deve fare Prende Che ne so Prende un Che ne so Magari Ha il posto di prendersi Un T9 Uno magari avrebbe potuto Prendersi due T7 Poi magari Io adesso Non prendetelo Era un esempio Non era riferito A chi Al terzista Che l'ha comprato Perché c'è un terzista Per chi non lo sapesse Che si è comprato il T9 Qua in Italia Però comunque cercare Secondo me Di guardare Il parco mezzi E di non Spendere troppo Poi questo Va un po' da persona a persona Ci sono persone A cui piace fare gli sboroni Quello è anche vero Però voi contate Che avere Mezzi Con una potenza Ridotta Il giusto Cioè quello che ci serve Per esempio Qua in ballare Io avrei Con un'azienda seria O con un'imballatore Così ci avrei messo Un 200 cavalli Penso Sì Un 200 cavalli Perché con un 380 Cioè vai a fare È come andare A dare il concime Con un quad track Capito Cioè Non hai bisogno Sprechi Carburante Fai Hai un maggiore Compattamento del suolo E tutte queste cose qua Anche perché Col fatto che faccio la grare Probabilmente Ne sentirete parlare Mi sentirete parlare Un po' di volte Così C'è sempre Da Molti agricoltori Non lo tengono Da conto Ma c'è comunque Sempre il fattore ambientale Che bisogna sempre essere Bisogna sempre calcolarlo E Comunque c'è sempre Bisogno di Tenere conto Del compattamento Il mezzo Pesa tanto Magari è meglio Una Gommatura Un po' più larga Sono soldi da investire Però magari è meglio E tutte queste cose qua Risparmio idrico Qui e là Ovvio che La maggior parte Di queste cose Vanno Contro Il capitale Se non Proprio magari La lavorazione minima Che Ci consente Di risparmare Il carburante E tutte queste cose qua Perché Facciamo un minore Numero di passaggi Però per il resto Solitamente Non Quando uno parla di Preserviamo Il territorio Pensa sempre Oh mio dio Adesso devo spendere di più Solitamente quello E Questo è un po' Dispiace Però comunque è una cosa Che secondo me Va tenuta conto E poi di sicuro Bisogna Sdoganarsi Dalle Dal normale Del normale pensiero No Perché Tanti Ok io ho l'azienda agricola Allora conferisco tutto Il consorzio Finisce lì No Sarebbe meglio Che ne so Riunirsi In Cooperative Poi Magari molti di voi Saranno in disaccordo Però Riunirsi Puntare sul lato marketing E ste cose qua Puntare sulle nuove tecnologie Tentare di Aggiornare il parco mezzi Perché comunque Tutti quelli che Tengono i mezzi vecchi Oltre al fatto che Sono magari un po' Meno produttivi Devono andare incontro A delle spese di manutenzione Più alte Ricordate sempre che Sono quelli che Consolano di più Sono quelli che Comunque Hanno meno tecnologia Quindi Molto probabilmente Il lavoro Viene fatto Non alla stessa maniera Mi viene in mente Che ne so Semina del mais Se ho un RTK Quindi un controllo Satellitare Di sicuro La semina verrà In una certa maniera Ma l'RTK Lo monti solo Su trattori Relativamente recenti Mentre invece Se voglio seminare Mice Con una certa precisione Perché voglio fare Una fila un po' più stretta Perché qui Perché là E ho un trattore vecchio Che non ha l'RTK Bisogna avere una buona mano Un buon occhio E non sempre Tutte le aziende Mettono Operatori Alla guida Che abbiano una buona mano Un buon occhio Quindi c'è anche questo Da controllare Poi ritornando sempre Al discorso Su cosa ti buttresti Ho dato già la risposta Per quelli che sono i miei gusti Terzista Per chi mi piace Organizzare E mi piace Lavorare Quindi mi piace Cioè Lavorare con i mezzi agricoli Non Non lo so come spiegarlo Preferisco fare Qualcosa del genere Rispetto ad avere Un'azienda zootecnica O quant'altro Mi piacerebbe Piace anche molto Il discorso del biogas A dire la verità Però Ultimamente Ci sono stati Un po' di casini C'è gente che Tra virgolette Lo sconsiglia Quindi Non so È un discorso Un po' così Poi di sicuro Qua nella mia zona Proprio nel cuneese Si sente anche molto Il discorso Frutticoltura E infatti Noi a scuola È una delle cose Che studiamo di più Perché comunque Per esempio La nostra azienda Pratica Di pratica La nostra azienda Della scuola È incentrata Per il 90% Sulla frutticoltura Quindi è ovvio Che poi Se è anche conduzionato A me non dispiacerebbe Anche se non Mi appassioni Più di tanto Per quanto riguarda Le Il discorso Zootecnia Quindi animali Non mi ispira Più di tanto Preferisco più Cioè Mi ispira molto di più Il discorso Che allora Mi preparo il foraggio Gli prendo il foraggio Distribuisco Le tamese Ma Non tanto La gestione Di una stalla Non so Come mai E consigli C'è Per adesso Non saprei darveli C'è Va preso Zona per zona Zona d'Italia In esame Va Va visto I contributi A cui puoi avere accesso Per esempio Mi pare che adesso Per adesso L'Unione Europea Da Quasi 100.000 euro A ogni Imprenditore agricolo Sotto i 20 anni O forse Fino ai 20 anni Non ricordo E poi si scala Comunque Non è che Finiscono lì i contributi Quindi diciamo Che c'è anche Da valutare Quello E E' un discorso Molto Particolare Perché comunque E' quasi Come Aprire Un'industria Aprire una nuova Attività agricola E' sempre un'attività Quindi Ci vuole un studio Cioè non è una domanda Facile a cui rispondere Più meno le mie indicazioni Sono queste I miei consigli Poi Ognuno è libero Di fare quello che vuole Conosco molti Che comunque Preferiscono Rimanere Con i loro trattori Anni 90 Produrre di meno Ma così Non hanno da spendere Nuovi mezzi Prendono magari Anche un po' meno Della PAC Perché non attuano Che ne so Cultura biologica Queste cose qua Ah ecco Poi quello è anche Un altro discorso Che mi avete chiesto La cultura Cos'è La cultura biologica La Cultivazione biologica Qua nella zona Ci sono tanti Che Cioè ci sono tanti Iniziano ad aumentare Quelli che la fanno E Il commento in questione Diceva Poi alla fine Comunque Non Non serve a nulla Secondo me no Invece Perché comunque I controlli ci sono Checklist Si fanno Tutte queste cose qua Quindi Sono un po' in disaccorto Nel Sentir dire Che alla fine Non serve a nulla Il biologico Che alla fine Tutto quello che ci arriva Poi È sempre molto simile All'arresto Certo è che Non possiamo pretendere Che il biologico Costi Uguale al resto Perché Ovviamente C'è un motivo Se quel qualcosa È biologico Cioè vuol dire Avere Solitamente Una produzione Minore Costi maggiori Quindi è normale Che ti facciano Pagare il tutto Un po' di più Però anche quello Un bel discorso Da tenere da conto Cioè comunque Come dicevo prima Puntare magari Sulla qualità Quindi cercare Ok Allora Cioè Noi qua in Italia Non è che ci possiamo Permettere più di tanto Di utilizzare tanto Diservante Per poi far tanto raccolto Perché comunque Le estensioni Sono quelle che sono Quindi ho punti Come per l'industria Ho punti Sulla qualità Come per i vestiti Oppure O fai la Cina O fai il Made in Italy Il problema è che Qua in Italia Per quanto riguarda L'agricoltura È difficile fare come La Cina fa Nel mondo industrializzato Perché comunque Le estensioni sono quelle Non siamo come Sud America O cose del genere Mato Grosso E tutte queste cose qua Quindi secondo me Conviene molto di più Dedicarsi alla qualità Cercare di entrare Magari in qualche Qualche marchio Qualcosa del genere Qualcuno che Si è già costruito Magari un'identità Non so Un gruppo Che ne so Mi viene in mente Se sono in Trentino Mi verrebbe da mettermi Consociato Con tanti Con le altre aziende Cercare il consorzio Più che altro Più che vendere A qualche Commerciante Qualche grossista Più o meno Questo intendo Ok Mi sa che siamo pieni E questa la vengo A prendere col Terex Quindi abbiamo detto Che la scarichiamo Qui Tac Oh mio dio Allora Però io la scaricherei Qua fuori Poi me la vado a sistemare Con calma Io O al massimo Posso fare una cosa Del tipo Adesso Giriamo Allora E poi altro Niente ragazzi Altri consigli Non mi vengono Al momento in mente Se avete qualche Argomento In particolare Da approfondire Potete chiedermelo Tenete conto Che io Sto studiando Per fare il perito Per diventare Perito agrario Però comunque Faccio terza Quindi Magari Non venite Proprio a chiedermi Come migliorare La produzione Di queste cose qua Perché Lo sto facendo Adesso Quindi Non vorrei Ritrovarmi Magari con domande Troppo specifiche Però se avete Qualche domanda Per l'amito agricolo Finché sono di questo tipo Può starci Anzi Mi piace rispondere Allora Intanto Con le mucche Che laggano Mi sembra che stiano laggando Non lo so Da agromoderni tutto Noi ci vediamo Nel prossimo video Come vi ha ricordato Il grande Thief like grabber Lasciate un bel like Io vedo di sistemare Queste balle Per la prossima puntata In cui raccoglieremo Un po' tutta l'erba La schedule È un po' Sballata in questi giorni E probabilmente Ve ne siete già accorti Quindi Boh Era solo per dirvelo Probabilmente Non terrò Uno schema preciso Come vi ho spiegato Nell'episodio di ieri Non entrerò ancora In funzione Con la rotazione Ora Chiudo giusto in tempo Perché Qui qualcuno Ha iniziato ad usare La spia la polvere A manetta Quindi Col mio super microfono Probabilmente Si sentirebbe Subito Ragazzi Noi ci vediamo Nel prossimo video Lasciate un bel like Ciao a tutti ragazzi Noi ci vediamo Noi ci vediamo Grazie.